Open Day Summer dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sono stati aperti per l'occasione tutti i laboratori e sono stati esposti gli elaborati prodotti dagli allievi nel corso dell'anno accademico che sta terminando. L'Accademia di Belle Arti chiude dunque in bellezza con l'ultimo appuntamento aperto alla città e al territorio. Un Open Day molto particolare, quello organizzato, perché è stata una vera e propria festa della creatività, con tutti i laboratori e corsi aperti che hanno esposto gli elaborati prodotti dagli allievi nel corso dell'anno. La scuola di restauro ha presentato i primi risultati dell'intervento sulla tela della finta cubola del Duomo dell'Aquila e i restauri di alcuni importanti manufatti lapidei provenienti dalla chiesa di Santa Mena del Suffragio. Adesso abbiamo già fatto foderatura, questo è un prezzo nuovo. Questo è verinatura del 1909, dopo la terremoto. Questo lavoro si chiama verinatura per fissare, pre-fissare. Quando facciamo le stavole togliamo. Cantieri scuola effettuati in collaborazione con la sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e comuni del cratere e con gli altri uffici del MIBACT. È stato allestito anche con installazioni di arte contemporanea d'opera degli studenti il parco dell'Accademia, che diventerà una vera e propria mostra per la comunità. L'Accademia di Belle Arti lavora per tutto l'anno. In pratica noi, ecco, con questo Open Day, che vuole essere, che rappresenta la fine dell'anno accademico, in realtà rappresenta anche l'inizio del prossimo anno accademico. Noi lavoreremo quest'estate, per esempio, su vari canteri all'interno del nostro territorio. A Spoltore, per esempio, continueremo un cantiere di restauro di affreschi antichi. Quindi lavoreremo su questo, così come lavoreremo anche su altre iniziative che faremo a settembre, a ottobre, come un convegno dedicato all'evento Eremi Arte. L'Accademia dei Belle Arti del resto ora rappresenta una certezza. I diplomati dell'Accademia nell'anno 2016-2017 sono stati 84-70 nelle altre scuole del Triennio e del Biegno, 14 diplomati nella scuola di restauro, che è a numero chiuso, numeri sempre più positivi.